Questa è di nuovo una denuncia per la situazione del quartiere Rancitelli di Pescara perché si parla di atti di ritorzione e si parla di una criminalità che prende piede. Sì, oggi è un giorno di lutto perché per la prima volta siamo costretti a fare una conferenza stampa contro quei criminali pluri pregiudicati che detengono il controllo del territorio a Rancitelli chiusi dentro una stanza. Perché? Perché a seguito della precedente conferenza stampa i cittadini onesti che erano scesi in strada con noi, ci avevano messo la faccia e avevano denunciato il malaffare e sono stati colpiti. Ad uno di loro hanno spaccato tutti i vetri della macchina, un altro l'hanno minacciato mentre rientrava a casa un altro è stata minacciata con un martello in mano da parte di uno di questi pregiudicati e quindi oggi loro hanno detto vogliamo fare una conferenza stampa, vogliamo denunciare ma ci dovete coprire il volto e non lo possiamo fare più nel nostro quartiere. Lo Stato ha perso, la parte sana dello Stato ha perso e questo dovrebbe far riflettere le istituzioni. Io ho parlato con il prefetto, ho fatto delle richieste giorni fa assieme ai consiglieri comunali nostri, assieme al nostro parlamentare ho detto che lì va riproposto come ricetta quello che è stato fatto in via caduta per il servizio un'unità fissa di polizia H24 con una ronda da parte delle forze dell'ordine perché serve il controllo continuo, sistematico da parte delle forze dell'ordine poi al Presidente della Regione ho chiesto e chiedo di stanziare più fondi perché quelle case sono di proprietà della Regione Abruzzo per sfrattare i criminali pluri pregiudicati che detengono abusivamente quelle case perché solo togliendoli, mandandoli via possiamo ripristinare un pezzo della legalità questo è il dovere e poi il Presidente della Regione l'ho chiesto più volte dovrebbe venire in quei posti dove sta il Presidente della Regione perché non viene lì, perché non incontra questa gente con noi anche questi sono cittadini abruzzesi però purtroppo le istituzioni continuano ad essere assente